Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Si allungano i tempi per la liberazione dei quattro ragazzi italiani, tra cui due abruzzesi e due marchigiani arrestati in India con l'accusa di aver imbrattato i treni della metropolitana nella città di Ahmedabad con dei graffiti. Il 21enne Daniele Starinieri di Spoltore, il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto, il 29enne Baldo Sascia di Monte San Vito in provincia di Ancone, il 27enne Paolo Capecci di Grottamare. Sono stati sentiti nella prima udienza davanti al giudice di Mumbai con la polizia locale che ha confermato l'accusa di violazione di domicilio. Di positivo c'è che i quattro ragazzi stanno bene e che non c'è stata convalida dell'arresto, il che significa che restano in stato di fermo in attesa della prossima udienza prevista per la prossima settimana, nel corso della quale l'avvocato difensore dei quattro, che è un legale indiano, presenterà istanza di cauzione per chiedere la liberazione dei quattro writer. Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, in costante contatto con il papà del giovane dei quattro, Daniele Starinieri, si augura che a questo punto la vicenda possa risolversi al più presto. Noi siamo in trepidante attesa che questa situazione si possa chiarire al più presto, che questi ragazzi possano tornare presto in Italia. Sappiamo che ieri c'è stata un'udienza, loro sono ancora in stato di fermo e quindi si attende un ulteriore passaggio la prossima settimana. Ci auguriamo che sia semplicemente una normale routine e che poi si riesca finalmente, pagando una sanzione, come sappiamo che dovrebbe concludersi questa incresciosa situazione, pagando questa sanzione, loro siano liberati. È in costante contatto con la famiglia Starinieri, con il papà che sta seguendo con attenzione naturalmente tutta questa vicenda? Sì, col papà di Daniele ci sentiamo tutti i giorni, sono tenuta al corrente da lui della situazione e mi auguro di avere a presto ulteriori aggiornamenti, sicuramente la prossima settimana, di definizione di questa vicenda.